Zomenicucci ha chiesto al professor Lorenzo Dagna quale di questi farmaci sono in uso ad esempio in un grande ospedale come il San Raffaele di Milano. Noi al momento stiamo usando gli antivirali, quindi il remdesivir e la combinazione di ritonavir e l'opinavir e l'idrossiclorochina. Li usiamo chiaramente sui pazienti in cui la diagnosi è stata fatta, talvolta anche in combinazione con altre terapie di tipo immunosoppressivo. Con quali risultati? L'impressione è che siano estremamente utili in monoterapia probabilmente nelle fasi iniziali, quando la malattia sembra dipendere principalmente dalla replicazione virale. Al contrario, sembra che in monoterapia questi farmaci funzionino molto meno bene nelle fasi più avanzate, quando il paziente ha la polmonite e ha dei problemi di tipo respiratorio. In queste fasi è assolutamente cruciale aggiungere probabilmente altro della famiglia dei farmaci che diminuiscono la potenza del sistema immunitario o comunque l'infiammazione. Quali di questi prodotti vi ha convinto di più? Sono tutti molto interessanti. Diciamo che probabilmente le evidenze scientifiche in questo momento tra gli antivirali propri sembrano favorire il remdesivir, rispetto anche a ritonavir e lopenavir, che sono farmaci che peraltro recentemente uno studio ha giudicato poco efficaci nel ridurre la mortalità appunto nei pazienti impegnati. Idrossiclorochina pare anch'essa avere un ruolo sicuramente significativo nelle fasi iniziali, probabilmente anche nelle fasi successive se usate in combinazione. L'AIFA l'ha autorizzata però solo per la terapia e non per la profilassi, la prevenzione. È assolutamente corretto perché al momento non esistono degli studi che confermino le indicazioni in profilassi. È importante e stiamo considerando anche come ospedale di iniziare degli studi che possano dimostrare che anche nella profilassi questo farmaco serva. Al momento non ci sono dati, quindi la posizione deve essere cautelativa. Professore, farmaco in greco voleva dire non solo medicina ma anche veleno. Assolutamente concordo, sono farmaci e come tutti i farmaci possono avere effetti benefici ma anche effetti collaterali. È necessaria la prescrizione e la valutazione di un medico in ogni singolo caso. Si chiama anti-covid-lastico.